Antonio Laurelli, Boiano sconfitto di misura ma a testa alta per quanto riguarda la prestazione? Sì, purtroppo un episodio ci ha condizionato una partita dove tutta la squadra ha dato il meglio sperando che questa prestazione la portiamo avanti anche domenica prossima perché abbiamo uno scontro diretto importante. Noi dobbiamo cercare la salvezza subito perché senza passare per i play-out che è una cosa importante, la società sta facendo il massimo per cercare di portare questo obiettivo fino in fondo. Soprattutto nel primo tempo avete creato diverse occasioni di rigore sbagliato quindi il rammatico c'è soprattutto per i primi 45 minuti. Sì, forse nel primo tempo abbiamo peccato qualche occasione, anche loro hanno avuto un'occasione ma diciamo le nostre sono state un po' più nitide, siamo stati sotto porta un po' troppo leziosi e purtroppo quando le cose vanno così, un episodio a sfavore ti condiziona una partita. Per il rigore, purtroppo va così, il rigore si segna, si sbaglia. L'oggi è andata così e il prossimo lo fa. Per quanto riguarda la corsa salvezza, il prossimo match contro il Campo di Pietra sarà fondamentale provare a far punti. Sì, domenica è importantissimo perché è uno scontro diretto per noi importante che ci fa salire da quella zona in cui non vogliamo stare, diciamo, in modo che i play-out li teniamo un po' più dietro, in modo che stiamo un po' più tranquilli e comunque giocare con la serenità con cui per ora stiamo affrontando le ultime gare.